Ecco, perdonami Paolo, così diamo tempo anche di sentire che non è arrivato solo all'appuntamento Alessandro Di Battista. Di Battista, non sono personalmente tra coloro che sottovalutano il vostro lavoro parlamentare anzi oggi è l'occasione giusta di ricordare che giace in commissione alla Camera, credo, una vostra proposta che era già stata accettata, se non sbaglio, anche dalle altre forze politiche sulla deducibilità da quello che è il cosiddetto patto di stabilità degli interventi dei comuni per frenare il dissesto idrogeologico Se fosse stata approvata, che invece attende ancora, penso, un sì della ragioneria generale, quella norma, quel provvedimento di legge probabilmente sarebbe stato possibile eludere tutta una serie di problemi anche a Genova e evitare magari o limitare la tragedia di oggi che anche altri, per la verità, aspetti che non hanno solo a che fare con l'inclemenza del tempo ma di questo abbiamo già parlato nel telegiornale questo per dire che non passa sotto silenzio anche quello che voi fate non sempre illuminato dal fascio di luce dell'informazione però io le faccio la domanda piatta, dritta, che molti le vorrebbero fare anche lei lo sa, anche dei vostri, perché lei ha avuto modo in questi mesi di sentire molto la vostra base C'è bisogno di personalizzare la vostra presenza? Di avere un portavoce? Di avere una figura di riferimento? Che si misura con i Renzi, con altre figure? Perché la politica è forzatamente personalizzata nella visualizzazione che ha l'elettorato del tutto legittimamente è un discorso che comincia a far presa anche tra di voi? Fermo restando il carattere del movimento, ancora oggi Grillo ha detto Renzi è un leader senza base, noi siamo una base senza leader un leader no, ma un portavoce? Magari a turno? Direttore, io rispondo alla sua domanda schietto in modo estremamente schietto è evidente che in questo anno e mezzo sono sorte delle figure che forse mediaticamente a livello comunicativo funzionano più di altre questo non significa che siano migliori di altri perché non significa che io, che magari me la cavo, me la cavicchio in televisione sia migliore di il mio collega Vincenzo Caso che quello che ha scoperto lo scandalo visto in Parlamento quindi è evidente che è sorto un gruppo che è più capaci, diciamo, dal punto di vista comunicativo è anche il gruppo che comunica maggiormente o sui social o per esempio attraverso collegamenti però il discorso che la nostra battaglia è sempre stata una battaglia legata anche al talk show che è obiettivamente in tracollo ormai probabilmente irreversibile e contro un certo tipo di informazione legata al mezzo televisivo che tende, riteniamo, sì forse a personalizzare, come diceva lei, la politica quindi a mostrare i Renzi, il Berlusconi abbiamo anche visto i limiti della personalizzazione in questi ultimi venti anni però tende anche contemporaneamente a staccare il cittadino dalla partecipazione attiva politica come lei sa, televisione deriva dal greco, se non sbaglio significa vedere da lontano ecco noi in quest'anno in Parlamento, in quest'anno e mezzo in Parlamento abbiamo capito che per cambiare l'età la devi vedere da vicino devi leggere fino agli ultimi capigli dei decreti parlamentari che arrivano cioè noi stiamo strutturando un altro tipo di informazione è evidente che ci sono persone che portano anche la voce con maggiore enfasi con maggiore capacità e tra questi ci sono miei colleghi straordinari e sono anche i colleghi che parlano di più, che voi intervistate di più questo è logico, però occhio che la personalizzazione eccessiva della politica porta a far sì che si discute ormai in televisione e non ce l'ho con lei e gli do atto a lei e non sto facendo piageria che lei ha parlato spesso in maniera il più possibile corretta di quello che è la nostra lavoro parlamentare si parla di slogan televisivi cioè il Presidente del Consiglio dice una frase e quella frase riportata in un determinato modo è come se venisse trasformata in realtà quando io vado in Parlamento negli uffici a vedere se ci sono degli atti parlamentari che dimostrano l'esistenza di qualcosa che avvalori quella frase e non c'è nulla cioè oggi il discorso che Renzi è riuscito a togliere e questo Letta non lo faceva perché Letta parlamentarizzava la discussione a noi a Letta gli abbiamo fatto un'opposizione durissima ma Letta veniva in Parlamento oggi Renzi non c'è in Parlamento in Parlamento si lavora pochissimo infatti per questo abbiamo deciso di fare ostruzionismo su tutti i decreti anche perché sono porcate, complessive e Renzi è riuscito a rendere soltanto mediatica e televisiva la politica esattamente l'obiettivo opposto per il quale è nato il Movimento 5 Stelle e per questo preferisco andare nei bar ma anche in collegamento con le del Circo Massimo piuttosto che partecipare a un talk show dove vedi la faccia di Gasparri la santa anche è poi mi vedi a me e qualcuno potrebbe pensare che non c'è differenza quando differenza c'è grazie 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 grazie